A tutti una buona serata, le previsioni per domani capodanno. Ben soleggiato su Alpi e fascia prealpina, con clima particolarmente mite in montagna, lo zero termico si alzerà fino a 3600 metri. Ancora invece i cieli grigi sotto le nebbie persistenti sulla bassa pianura padana. Le temperature massime tra 11 e 15 gradi sulla fascia prealpina ma attorno ai 5-6 gradi al di sotto della nebbia sulla pianura. A tutti ancora l'augurio di una buona serata e di un buon campodanno.